La comunicazione e l'informazione nell'era di internet. Di questo ha parlato Francesco Giorgino, caporedattore centrale della redazione interna del Tg1, ospite del terzo appuntamento della sezione Talk del Trane International Festival. Numeroso è il pubblico che ha preso parte al Talk, moderato da Lorenzo Procacci Leone. Nato giornalisticamente nell'emittente Telesveva, Giorgino è entrato in Rai nel 1991. Diventa giornalista professionista a gennaio del 1993, con menzione speciale da parte della Commissione di Esame. Nello stesso anno scrive il suo primo libro, Intervista alla Prima Repubblica. Dal 2000 è conduttore del Tg1, dal 2001 è professore presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma, dove insegna teorie e tecniche del newsmaking. Durante l'incontro si è soffermato soprattutto sui nuovi media, perché oggi la comunicazione, ha spiegato Giorgino, passa prima di tutto dal web. Grazie al web, infatti, ogni cittadino diventa attore e protagonista del comunicare, il cosiddetto citizen journalism, ha detto Giorgino. Siamo passati da un modello di comunicazione verticale, per cui c'erano degli emittenti, che per autorevolezza, per importanza, riuscivano a mandare un messaggio recepito quasi accriticamente da parte del pubblico di massa, ad un modello in cui la comunicazione è diventata sempre più orizzontale. Per cui non solo c'è un modo di comunicare diretto tra cittadini, il che pone evidentemente una riflessione seria sul tipo di ruolo dell'informazione nel futuro, ma al tempo stesso si interagisce cittadini e informazioni. Da alcuni anni, per esempio, gli americani parlano di questo nuovo fenomeno che si chiama il citizen journalism, cioè il giornalismo cittadino, il reporter diffuso. Chiunque, grazie alle nuove tecnologie, oggi è in grado di essere giornalista, cioè di catturare un segmento di realtà che soltanto qualche anno fa sarebbe stato monopolio dell'informazione nel senso classico del termine. TV, giornali, internet, ma anche i giovani tra gli argomenti trattati dal giornalista. Il 20 agosto toccherà a Claudio Santamaria, l'attore con la Jets All Star, chiuderà la sezione talk del Train International Festival.